Praticamente, per chi non lo sa, ieri sera dopo l'attentata a Trump, Mussolino, questo ex account, perché adesso è disabilitato, di Twitter, che fa sempre il troll ragazzi, dice che questo giornalista che fa anche dei video su YouTube della Roma è l'attentatore di Donald Trump. Il caso vuole, il caso vuole, Manfred, se puoi andare sul suo Instagram... No, mi sa che l'ha disattivato... No, no, come l'ha disattivato? Ho visto stamattina? Eh, lo stavo cercando... Si chiama Marco Viola e la poco tradotto Mark Violet. Il caso vuole, se vuole vedere sul suo Telegram, che praticamente lui aveva fatto uno stato su Instagram dicendo cos'è che aveva scritto ragazzi, la guerra... Il bello deve ancora avvenire, c'era un posto che ho scritto il meglio deve ancora avvenire, una roba del genere. E poi c'era la storia, la storia che richiamava poi quello che è la fake news, ora non mi ricordo precisamente quella la storia. Spero che vada avesse, ci hanno mandato al bot. Bellissimo. Io lo cerco prima, ma non lo trovo. Comunque la prima volta, se ne parla sempre male del Twitter calcio. E' quel motivo, è quel motivo. Beh, secondo me il problema, vi dico la verità, è un po' più dentro rispetto a parlare solo di spunte blu, cioè scusate, rispetto a un troll. Cioè bisognerebbe analizzare come mai poi dei giornali, perché poi questa roba qua è andata in televisione. Io ho visto stanotte che ho scritto Mark Weirer, ragazzi c'erano dei video da mezzo milione, un milione, 300 mila. Senti, ma di gente che parlava di lui. Ma sì, c'è proprio di riconoscere. Il faccione in televisione americana. Ma la cosa grave è il mancato approfondimento dei giornalisti che l'hanno sbattuto in prima parte. Quanti soldi può prendere se denuncia? Vai voi. Vai voi. Il problema è che c'è. Ma io ti dubbio. Secondo te, Aufu, che fai l'avvocato, poi in mezzo? Perché poi uno magari dice no, adesso gli fai... Ma i soldi non li prende in Italia, i soldi li prende se fa causa in America. Quello è il discorso. Perché devi prendere le fonti, non è che fai causa in Italia. Devi andare... Però al ragazzo che ha messo la notizia in giro anche, mussolignola. No, ragazzi, ma in un mondo per direzione contraria per assolutamente... Ma lui, ma lui... Ma come sai? Ma no, ma secondo me però come fai a prenderla? Luca, quanta gente c'è che fa un post troll? Guarda, allora, secondo me... Ho capito, però... E' come dire, quanta gente c'è che a capo fanno sparinare? Se sparinare bigli uno è un video. Esatto. Potrebbe accadere che qualche studio di quelli importanti americani... A livello legale... Si fa la causa, anticipa le spese, si prende, diciamo, la briga di fare causa in America a queste mass media e poi magari si prende la fetta di quello che guadagna. Cioè, da quel punto di vista il danno di immagine è grande, ecco. Anche se poi lui in America, diciamo, che non è che è conosciuto, quindi... Vabbè, però qualcosa sicuramente di importante prende. Però il problema è che ci devi mettere prima i soldi... Comunque, cioè, ma poverino, dai, mi immaginatevi stamattina quando sei svegliato. No, lui alle due e mezza, ragazzi, lo vede sta roba qua. Lui la vede alle due e mezza e fa un post su Instagram. Sì, però, ragazzi, adesso stiamo andando dietro alla follia. Cioè, ma come cazzo fai a credere che uno così... Bravo. ...sia l'assentatore di Trump, ragazzi. Trump, la verità è che... Non ci credevo. La verità è che Trump è seguito da dei trogloditi, ragazzi, complottisti che non vedono l'ora... di trovare il tipo, hai capito? Cioè, perché sono... Cioè, chi crede in sta roba qua, ragazzi, praticamente ci sono quelli che mettono il link facendo... Vuoi fare 50.000 euro a settimana? Clicchi. Che così li fai. Questo è il target di Trump. Trump è stato sparato da uno che segue l'altra fazione. Esco te, Trump è seguito dai trogloditi. E quell'altro da cosa è seguito, scusami. No, ma è stato un po' di bene. Ha gestato un po' di pezzo, eh? Ma voi sapete che con l'intelligenza artificiale hanno fatto fare un video... Bellissimo. Hanno montato un video con il vero attentatore che parlava. Cioè, una cosa... No, però, secondo me, secondo me l'analisi grave... Eccolo qua, eh. No, no, questa era fatta sì alle quattro. Eh, quando parla di quello che è successo. Sì, sì, sì. Dicevi, Luca? No, però, secondo me, al di là del pubblico, delle persone normali, ma i giornalisti, ragazzi, ma non hanno verificato un cazzo, si sono affidati alla fronte Mussolini, hanno fatto la notizia. Ma come si fa a fare il giornalismo? Ma in realtà, in realtà... Ma neanche il calciomercato, percorrarsi come funziona. È il primo che sbaglia, perché poi tutti prendono l'altro, capisci? Cioè, avendo la data SkyTG24, faccio l'esempio, io se avessi avuto un sito di informazione normale, io citavo SkyTG24, quindi il problema è... gli passano tutti i primi a riportarlo. Poi, se la dà SkyTG24, anche fanpage... Sì, ma non deve essere... No, però aspetta, Flavio, non deve essere normale sta roba qua. Ma nessuno si prende la briga di verificare. Luca, non c'è una notizia così spiera, che non è la notizia... Aspettami, ma non è la notizia che stiamo raccontando Reinders al Como. Diciamo, vabbè, sei una cazzata, ame. Siamo accusando uno di aver tentato un attentato, e lo sbattiamo in prima pagina. Ma il problema originale del giornalismo di oggi, che butta... No, però è una cosa incredibile che se la prendono col Twitter calcio, bravo Andre, mentre in realtà quello che evidenzia sta roba qua è che il giornalismo è veramente finito. Ma voi vi ricordate con Raiola, ragazzi, uguale? Sì, assolutamente. Cos'è passata un anno da quella notizia lì? Anche lì, Andre, se è il Corriere della Sera, piuttosto che... Un metodo folle questo qua. Annuncia che è morto Flavio Nissanti, chi ha fanpage, cita il Corriere della Sera, perché si fida del Corriere della Sera, cioè si innesca una relazione a catena che parte dalla fonte primaria. Se la fonte primaria è autorevole, ragazzi, diventa un buon problema. Sì, perché il problema è perché nelle relazioni ci sono ragazzi che copiano, incollano le notizie di altri e si crea questo meccanismo. Sono ragazzetti buttati là che devono mettere più notizie possibili senza fare il lavoro di giornalista. Tra l'altro questa cosa a lui era già successa, però ovviamente non l'avevano riportato i giornali, quindi è finita su Twitter, ma quando c'era il periodo degli attentati ci fu la stessa fake news che girava sui social, che però non fu il video. Sì, perché lui ha detto che ci sono anni che c'è gente che li fa queste cose. Ma è bellissimo, dai, diciamo la verità. Beh, è bellissimo se ne succede a te, Spado. Se ne succede a te non è tanto bene. Ancio, ti ricordi quando andava in giro su Facebook anche quella cosa? Lui è Franco Mussolini, figlio di... che ti facevano quelle robe lì. Cioè, ragazzi, questo qua è il volato? Cos'è Kiev White House Correspondent? È il capo dei corrispondenti della Casa Bianca. Eh, dice nulla, la riporta a lui. Forca. Ma questa ragazza è pesante, eh. Però mi capisco la faccia, dove sta? E questo è la forca. Se va su Azzu. Ancora. Ma devo vedere ovunque se è su Azzu. Beh, se non vedete su Azzu da tempo è normale che... Ma la rincorsa ora è a pubblicare prima e a fare numeri... Ma è il più grande troll della storia di Twitter Calcio, secondo me, questo qua. Ma secondo me è di tutto, non di Twitter Calcio. Cioè, di qualche... Sì, sì, ha superato il caso Fedez, è stato superato qua. Ma nel caso Fedez, Wazza, cioè, che si è detto che lo denunciava, l'ha poi fatto o no? Che voi sappiate. Non ha più scritto nulla, non ha fatto sapere nulla. Io ho qualche dubbio, ma non dico. Paolo, ma si prende dei soldi con una roba del genere, veramente no? Minchia! No, ma in America, secondo me... Allora, il problema è che è stato riportato in America, noi in Italia, quindi lui... No, no, ti dicevo quello lì di Wazza con Fedez. Sì, secondo me qualcosa hanno tra... Secondo me... Secondo me, o da un lato o dall'altro lo prendo. Fuori, secondo me l'hanno fatto, diciamo, in stragiudiziale, per non farsi a fa' causa, no? Esatto. Però, altre, guarda che si pigliano soldi, perché se tu offendi via social... Però che porta di culo, posso dirlo? Cioè, magari... No, ma lo sai qual è la cosa bella? Se lui... Cioè, lui rischia adesso di diventare veramente uno che invitano in America alla BBC... Eh, però non è il tipo, però, eh. Non è il tipo. No, ma ragazzi, ma in America, ma vedrai che adesso lo inviteranno a... Non so, capisco. Ti posso fare una domanda? La cosa è gravissima. Lui c'ha anche tanto quadratto di popolarità, eh. Francesco, ti posso fare una domanda, ma mi dici... Speramente, Francesco. Fosse successo a te, saresti stato contento. Io sì. Sincero, sì. Non avrei fatto tutto questo dramma, perché avrei rivisto e risvolto così. Ma in questo... Una cosa drammatica, estremamente drammatica, però io sai che cosa c'è, Flavio? Per carattere, sono fatti in una determinata maniera, vale a dire... C'è il problema, cerco la soluzione, e nel momento in cui cerco la soluzione, cerco di trovare quello che va a me a miglior vantaggio, e può essere da un punto di vista economico e da un punto di vista di ritorno d'immagine. Sono sincero. Ma in questo caso, agosto, gli avvocati si propongono. Beh, teoricamente sì, questa è una bella... Il problema è detto che lui i soldi li può prendere all'estero, non in... Eh vabbè, che vuol dire? Non si può fare causa in America, non si può fare causa in America. Sì, sì, assolutamente sì, però devi sostenere delle spese, però. Magari qualche bello studio ti chiama... Qualche bello studio ti chiama se vuole fare bei soldi. Questo mi sembra tipo un calcio di rigore a porta vuota, però bisogna vedere chi lo tira. Pesante. Ma voi ragazzi che idee vi siete fatti su sta roba qua? Ha ricordato un po' quello di Silvio, eh? Eh, però potremmo avere conseguenze drammatiche, ragazzo. No, è per me il contrario, perché Berlusconi ti ha l'opinione. Sono morte due persone. È morta una persona, in realtà di massa ferita, eh? Cioè, i risvolti sono ben diversi. Non è come quando Tartaglia ha tirato la statuetta Berlusconi. No, no, però è chiaro che secondo me è un problema sociale proprio della media. No, la scena di quando lui si alza. Posso dire una roba, siamo tutti contenti che Trump sia bene come tutti, ma ha due o tre punti percentuali alle elezioni li ha presi ieri. Vabbè, ma l'avrebbe già vinto. Ora lo regge. Secondo me ne vince uguale. No, secondo me no. Spero di no, mi auguro di no, ma ieri due o tre punti li ha presi.